Veneto 1 con voi, focus attualità. Veneto 1 con voi, buongiorno e ben ritrovati. Ben ritrovati a chi ci sta ascoltando sui 97500 e a chi ci sta guardando attraverso i nostri canali social. Oggi vi presento subito l'ospite con me in studio, un esponente del Movimento 5 Stelle, consigliere regionale, Trevigiano Simone Scarabelle. Buongiorno Scarabelle, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Allora, subito i termini dell'attualità e non possiamo non parlare dell'autonomia. Dopo il Consiglio dei Ministri, dopo le bozze che sono finite in Consiglio dei Ministri, ci sono due posizioni. Una che dice a questo punto il percorso è davvero tutto in salita e un'altra invece più ottimista, quella del governatore Zaia che dice abbiamo un accordo sul 70%, adesso si tratta di Limare. Lei, in base alle notizie che ha e a quelle che ha letto, da che parte sta? Tra i pessimisti o tra gli ottimisti? Sì, perché comunque tutti, entrambi i vicepresidenti, ma a me interessa Di Maio è venuto qua in Veneto e si è speso più volte dicendo che il percorso dell'autonomia non è in dubbio. Logicamente, io ho sempre detto, è la prima volta che viene attivata questa procedura, è qualcosa di irreversibile, che tocca un po' tutte le materie possibili e immaginabili a livello costituzionale e quindi dobbiamo fare questo passo convintamente, fatto bene, limare tutti i dettagli. Non è qualcosa dove tu puoi mettere una scadenza e farla in fretta e furia, ci vuole il tempo necessario, non sto parlando di anni logicamente, però l'idea di aver messo una data il 15 febbraio sapevo che non sarebbe stata quella ultima definitiva. Da lì in poi, una volta fatte le intese tecniche tra le parti regionali e le parti governative, poi c'è tutto un altro percorso da fare di dettaglio e di definizione e poi ci sarà ovviamente il passaggio parlamentare. E per la missione sia del governatore che del ministro Erika Stefani mancano in questo momento gli accordi su trasporti, sanità, su ambiente e su cultura, che sono quattro ministeri governati dal Movimento 5 Stelle. C'è qualcuno che ha detto, insomma, a questo punto ci sarà un alto braccio di ferro tra i 5 Stelle e la Lega e in mezzo c'è l'autonomia del Veneto e di Lombardia ed Emilia. Ma braccio di ferro, ad esempio, una materia che è totalmente in mano alla Lega come l'istruzione, troverai strano che fosse già tutto definito perché è una di quelle più sostanziose, che è una di quelle che segna veramente la svolta maggiore da un punto di vista dell'autonomia. La sanità, grosso modo, è già attualmente in gran parte decentrata, quindi veramente non so, credo che siano gli ultimi dettagli da definire. Logico che a livello di ordinamento deve rimanere a livello centrale appunto la facoltà di stabilire le regole, perché ovviamente non possiamo avere regioni che si muovono in un ambito normativo completamente diverso da quello che è l'ambito nazionale. Però da un punto di vista invece amministrativo è giusto che dove ci sono la volontà e la responsabilità di fare le cose più vicine ai cittadini venga data la possibilità e ovviamente anche le risorse necessarie. Lei non la vede quindi come una netta separazione tra nord ricco e sud povero, così come la stanno vedendo in questo momento il sindaco di Napoli e il governatore della Campania, De Luca? Non più di quello che è già in realtà adesso, perché se guardiamo anche la sanità, che attualmente il Veneto non è una regione statuto speciale, però c'è già una bella differenza. Gran parte dei cittadini meridionali viene qui al nord a curarsi, quando loro dicono dovrete passare sui nostri cadaveri, in realtà credo si riferiscono ai loro cittadini che passeranno sul loro cadavere, se non si muovono anche loro a cambiare le cose nelle loro regioni. Io guarderei più a casa loro che a casa degli arti, dicendo che è una secessione dei ricchi. Si tratta solamente di prendersi la responsabilità e fare le cose meglio, come abbiamo già dimostrato di fare in determinate materie. Io credo che molti cittadini che oggi meridionali scelgono di andare all'estero, magari un domani prima di fare la scelta di emigrare all'estero, magari decideranno di spostarsi un po' più al nord, come già fanno in gran parte oggi, per trovare delle condizioni di lavoro, sociali, di vita migliori, sperando nel frattempo che i cittadini si sveglino anche al sud e inizino a cambiare gli amministratori, perché non è questione di normative o di più o meno soldi. Un tema su tutti, i fondi europei ne vanno molti di più al sud che al nord, eppure puntualmente ogni anno vengono ritrasferiti in Europa miliardi e miliardi di euro che non vengono puntualmente spesi al sud. Quindi, insomma, anche lei è d'accordo con quello che ha detto il governatore, la colpa del sud è dei cattivi amministratori, di come è stato amministrato in questi anni? In gran parte sì, però quegli amministratori là non sono catapultati dalla luna, vengono anche votati, quindi un serio esame di coscienza se lo devono fare anche i cittadini e magari votare un po' meglio la prossima volta, perché sono anni e anni che vendono, tra virgolette, il loro voto, logicamente sto parlando da un punto di vista generale, però le cose non stanno cambiando in meglio, secondo me. Quindi vedo anche il voto, l'ultimo voto che abbiamo visto in Abruzzo, hanno comunque fatto una scelta di continuare con i vecchi gruppi politici e grosso modo le storiche formazioni, invece di andare anche là verso un cambiamento che magari potrebbe sembrare azzardato, però io credo che quella strada la conoscono già dove porta. Alla fine abbiamo visto anche in Sicilia, hanno messo Nello Musumeci, non mi sembra che le cose stiano andando molto meglio rispetto a come siano andate storicamente. Credo che nelle regioni i cittadini devono veramente avere il coraggio di cambiare, perché altrimenti non vedranno un futuro migliore. Ma anche in Veneto, parlando delle prossime scadenze in regione? In Veneto, secondo me, io che appunto sono dentro ormai da quattro anni, mi rendo conto che non è tanto la classe politica a fare la differenza, anche nella nostra regione che va abbastanza bene da un punto di vista generale, ma sono proprio le persone che sono dentro le amministrazioni a fare la differenza. Credo che c'è proprio un approccio che uno si prenda a cuore il lavoro che fa, anche in un ambito come la sanità, anche se non lo conosco benissimo, perché non sono in commissione sanità, però lo vedo, frequento comunque bene o male gli ospedali, vedo proprio dall'ultimo infermiere al primario che si prendono a cuore le cose e che anche se vanno oltre la loro competenza, se vanno oltre l'orario, decidono di rimanere là perché ci tengono che le cose siano fatte bene. Non c'è il menefreghismo, tanto fa un altro, tanto domani è un altro giorno. Io vedo questa differenza un po' in tutta la catena amministrativa e credo che questa sia veramente la differenza, quel qualcosina in più che riusciamo a metterci per far andare le cose meglio. E andrebbero così che ci sia Zaia, che ci sia Berti, che ci sia qualsiasi altro, sono convinto, perché comunque questo spirito non cambierà. Senta, dopo quello che è successo, il risultato elettorale in Abruzzo, ci sono stati due giorni di silenzio anche da parte del vostro capo politico Luigi Di Maio e vicepremier e poi attraverso un post ha lanciato una riflessione a tutto il movimento, fondamentalmente ha detto dove non siamo pronti, inutile che nel voto locale ci presentiamo. Ecco, queste parole in chiave nordestina, in chiave veneta, che cosa vi hanno fatto pensare, a che ragionamenti state facendo? In parte lo vedremo già, lo vedremo già alle prossime amministrative, anche se andranno a votare circa l'80% dei comuni, noi non presenteremo liste in tutti i comuni, ma le presenteremo dove appunto siamo riusciti a lavorare, a creare un gruppo e a mettere in piedi una lista. Non è facile, non è facile qua, da noi nel nordest, perché mediamente nel comune medio Veneto non ci sono questioni così preoccupanti, così allarmanti da attivare la cittadinanza per dire no, qua dobbiamo cambiare assolutamente tutto, altrimenti ne va della nostra salute. e quindi è più difficile insomma quando le cose vanno mediamente bene che la gente si alzi dal divano e decida di entrare in un consiglio comunale a maggior ragione, perché in un consiglio comunale volontariato puro devi comunque dare cinque anni della tua vita per il tuo comune senza avere niente in cambio, solamente problemi e quindi è un passaggio più difficile. c'è stata un'apertura di, sembra che si vorrà togliere il vincolo dei due mandati almeno a livello comunale, io credo che questo sia una cosa assolutamente necessaria il passaggio nel comune dovrebbe diventare, secondo me alla lunga un prerequisito prima di decidere di andare in regione, in Parlamento e quant'altro devi avere almeno fatto cinque anni in un comune così ti rendi conto della tua realtà locale di cosa significa amministrare direttamente il più vicino possibile ai cittadini e poi portare quegli spunti che avrai recepito nel comune anche a livello più alto. Siete pronti anche a sedervi attorno a un tavolo con alcune realtà tra virgolette politiche già presenti, penso a liste civiche o all'associazionismo in genere, cosa che anche Di Maio ha auspicato in questa famosa sua analisi post-voto in Abruzzo. Il dialogo di fatto c'è già, solo che non c'è stato nessun tipo di avvicinamento dal punto di vista politico-elettorale, però comunque il dialogo col mondo dell'associazionismo c'è da prima che esistesse il Movimento 5 Stelle, io sono dentro dal 2007 quindi quello c'è sempre stato, anzi siamo nati da là si può dire. Con le associazioni di categoria comunque quando in una realtà regionale ci dobbiamo per forza confrontare sulla possibilità di fare qualcosa a livello anche diciamo così elettorale assieme bisogna definire appunto i confini come devono essere, ma se appunto non si tratta di una lista di classici riciclati che hanno provato da mille altre parti e quindi decideranno di affiancarsi anche al Movimento, se sono realtà genuine di gente che veramente ha voglia di mettersi in gioco per cambiare in meglio il loro comune, la loro regione e quant'altro ci può sicuramente essere. I candidati a questo punto ai consigli comunali verranno comunque scelti sempre online e la piattaforma online non rischia di essere anche un limite nella scelta dei candidati? Ma dipende sempre dai numeri appunto delle consultazioni, magari su realtà piccole come può essere un medio comune veneto, sì infatti non si fa sempre, si fa solamente nei casi dei capoluoghi di provincia che c'è un minimo di base, di numerica per fare la consultazione altrimenti sceglie diciamo il gruppo locale che si è attivato per fare la lista. A lungo andare o ci sarà una maggiore apertura di questa piattaforma online e quindi ci sarà una base numerica minima per riuscire a fare una votazione online altrimenti continueremo come abbiamo sempre fatto il gruppo locale e ci si ritrova e si decide il profilo migliore. Prossima scadenza importante, il voto alle europee. Oggi c'è stato anche Di Maio che ha presentato i propri candidati, un gruppo, i greci, i polacchi, i finlandesi, si è smarcato anche dall'ala violenta dei gilet gialli francesi. L'obiettivo è creare un gruppo anche all'interno del Parlamento europeo che sia differente dai due gruppi attuali adesso presenti. Che cosa chiedete voi all'Europa? L'Europa deve tornare ad avvicinarsi veramente al livello del cittadino. Deve essere un'Europa per i cittadini europei non un'euro burocrazia calata dall'alto di cui ne vediamo principalmente gli effetti negativi. Dobbiamo tornare a parlare di obiettivi che vogliamo raggiungere come cittadini europei. Uno tra tutti il tema è l'immigrazione. È stupido affrontarlo a livello locale, nazionale. Dobbiamo avere un'idea comune come cittadini europei di cosa vogliamo fare appunto con tutta la parte del Nord Africa, del Medio Oriente che sono i focolai più caldi da dove arrivano gran parte dei flussi migratori che non si fermeranno domani né facendo il braccio di ferro ogni volta con le navi in mezzo al mar Mediterraneo. Ma dobbiamo decidere seriamente di fare degli investimenti come invece sta facendo in realtà la Cina e loro decenni che stanno investendo in Africa. Noi dovevamo già farlo ma questo deve essere una politica economica di lungo respiro europea per dare là le condizioni perché la gente rimanga e come Europa decidere di stabilizzare quell'area la geografica. Un altro tema che dobbiamo affrontare da un punto di vista europeo è tutto il tema dell'agricoltura, dell'agroalimentare. Adesso noi a livello regionale gestiamo il PSR appunto che sono i fondi europei e ogni regione diciamo li declina come meglio crede però dobbiamo secondo me a livello europeo andare oltre diciamo i sussidi. Dobbiamo veramente decidere come Europa di affrontare un livello di agricoltura che sia veramente sostenibile perché solo la sostenibilità in campo agricolo e il giusto prezzo. Adesso stiamo vedendo il tema del latte. Lì è riconoscere all'agricoltore, a chi produce, il giusto prezzo. Uno non vuole avere dei sussidi per sopravvivere. Dobbiamo riconoscere che quella materia prima ha un valore, è un alimento, è necessaria per la vita e deve avere il giusto prezzo. Il resto della catena si deve un po' adeguare però non possiamo sempre andare a comprimere il produttore perché è schiacciato da una grande distribuzione da una parte e dall'altra da delle associazioni di categoria che secondo me non lo stanno realmente tutelando. Senta torniamo per l'ultima parte di questa intervista sui temi veneti. Nella prima parte dell'intervista parlando di autonomia al suo posto poteva esserci, non me ne voglio un consigliere della Lega Nord, il contenuto sarebbe stato lo stesso. Voi come 5 Stelle in regione avete già abbandonato la vostra battaglia sulla piede montana? No, quella non è abbandonata e la stiamo portando avanti a più riprese. A questo punto io credo che serva, che venga completata e che i veneti si rendano conto veramente di cosa significa quel project financing. Io cerco di spiegarla nel modo più semplice possibile. Qual è il cittadino che per acquistare un bene X, non avendo i soldi, gli propongono un finanziamento di 39 anni che il bene costa uno e alla fine dei 39 anni lo paghi 5 volte. Io credo che tutti a una proposta del genere si alzerebbero dal tavolo urlando agli dietro ma sei un ladro. Questa è la grande opera che ci siamo portati in casa a livello Veneto che se l'autonomia va in porto e tutto andrà bene si mangerà gran parte dei soldi che riusciremo ad avere in più come autonomia per riuscire a pagare quell'unica grande opera. Sarà un'enorme voragine finanziaria che si porterà dentro tutti i soldi che invece potevano essere spesi per fare tutta un'altra serie di opere che magari serve in Veneto. Senta, ma dire a questo punto, voi avete fatto una grande battaglia, molti incontri, molti partecipati, altri un po' meno, ma dire a questo punto facciamola e i Veneti poi si renderanno conto che noi avevamo ragione. Non significa un po' come dire alzare bandiera bianca? Io mi aspettavo che le associazioni economiche, soprattutto quella parte produttiva che dovrà scontrarsi con i pedaggi, si facesse sentire. Io credo che finché non inizieranno veramente a pagarla ogni giorno quella pedemontana non si renderanno conto di cosa significa pagare per un'auto 16 euro e per un mezzo pesante 28 euro per fare i 95 chilometri. Io ho fatto delle stime da metà percorso 100 volte all'anno significa 1600 euro con l'automobile, è più di uno stipendio medio, mezzo pesante 2800 euro per 100 volte all'anno, che vuol dire farla due volte a settimana circa, quindi non è che un pendolare in senso stretto, farla tutti i giorni veramente sarà un salasso dal punto di vista del pedaggio. E quindi io ho chiesto anche in fase delle audizioni nella manovra di bilancio alle associazioni economiche, ma voi siete disposti poi a pagare questi costi, gli unici che ci hanno risposto la ConfCommercio dicendo vale, per noi l'unica soluzione possibile sarebbe il sistema tipo vignette come c'è in nord Europa. E su questa ho più volte provato a dialogare con la maggioranza, ho anche fatto degli emendamenti per dire poniamoci quell'obiettivo, andiamo anche in Veneto, ovviamente sulla pedemontana perché ad oggi è l'unica strada di stretta competenza regionale, andiamo verso quella logica lì, non hanno voluto neanche mettere l'intenzione di andare verso quella strada, questi amministratori. E Veneto 1 con voi termina qui, io ringrazio per essere stato qui con noi Simone Scarabella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, grazie per essere stato con noi. Arrivederci. E grazie a voi per l'ascolto, restate sintonizzati sui 97 500 di Radio Veneto 1 e sui nostri canali social. Arrivederci. Veneto 1 con voi, Focus Attualità.